Attrazione fatale tra Luca Onestini e Ivana Mrezova. A distanza di mesi dalla fine del grande fratello VIP2, la storia tra l'ex tronista e la modella cieca prosegue a gonfia in vele. Tanto che sui social Luca si sarebbe lasciato a andare a un racconto hot. In una delle stories di Instagram, Luca, in compagnia dell'autista Marco, avrebbe parlato di un incontro bollente con la fidanzata Ivana. Ecco cosa avrebbe rivelato l'ex Jeff Fino, ieri è tornata, Ivana, NDR. È stata via una settimana, quindi potete capire, ragazzi sono tornato dalla radio, ci siamo visti e poi, poi, niente, puntini di sospensione. Abbiamo fatto un po' di ritardo e Marchino si è in ca.o. L'autista avrebbe specificato, due ore di ritardo. E Luca avrebbe replicato, pensa che pressi dall'impetole o ha lanciato gli occhiali giù dalla finestra. Come si spiega, non si spiega, è capitato, succede anche questo. Infatti mi ha già promesso che mi lancia le scarpe dalla finestra, quindi se passate da Milano 2 e volete rifarvi l'armadio troverete di tutto. Insomma, tra Luca e Ivana tutto procederebbe a gonfia in vele. Matrimonio in vista? Staremo a vedere. Un post condiviso da Luca Onestini Chiocciola Luca Onestini sottolineatura 11, in data, giù 18, 2018 at 4 e 40 PDT.